E ora invece passiamo all'allerta meteo scattata in regione a causa dell'arrivo della perturbazione russo-siberiana prevista per domani. Sono già in atto comunque tutte le misure per fronteggiare l'ondata eccezionale di maltempo. Vediamo. Si chiama Burian, il vento gelido siberiano che da domani è pronto a colpire l'Italia e anche il Molise. Un evento che i meteorologi hanno definito di portata eccezionale con una perturbazione che potrebbe portare nevicate intense anche a bassa quota e che farà registrare un calo termico con temperature che saranno abbondantemente sotto lo zero anche nelle ore diurne. Si tratta di una corrente russo-siberiana che quando irrompe porta a vere e proprie bufere di neve, previste inizialmente a quota 800 metri ma in rapido calo. Anas, province e prefetture si sono già preparate a fronteggiare l'eccezionale ondata di freddo che secondo i meteorologi dovrebbe protrarsi fino ai primi di marzo. Il prefetto di Campobasso, Maria Guia Federico, ha convocato per le prossime ore il COV, il Comitato Operativo per la Viabilità, che sarà allargato a tutti i rappresentanti istituzionali interessati a garantire la percorribilità della rete stradale. A seguire con attenzione l'evolversi delle condizioni meteo, anche la prefettura di Isernia, che già nella giornata di giovedì ha diramato alle forze di polizia, alla regione e quindi ai sindaci, i bollettini aggiornati della protezione civile. Allertate già tutte le postazioni dei mezzi spartineve e spargisale delle due province, alle quali si aggiungono anche quelli dell'Anas, che ha anche attivato il numero verde gratuito 884 1148, al quale è possibile chiamare per avere informazioni e aggiornamenti sull'evoluzione del traffico in tempo reale. Particolare attenzione verrà riservata alle strade che presentano maggiori rischi, a partire da quelle montane in provincia di Isernia fino a Campitello Matese, Cerce Maggiore e Ripa Bottoni in provincia di Campobasso. Già operativo anche il centro regionale per il monitoraggio del traffico ferroviario in coordinamento con la Sala Operativa Nazionale. Trenitalia, che per l'occasione ha potenziato anche il servizio di assistenza ai clienti, ha già attivato i piani antigelo e i punti nevralgici di tutta la rete saranno presidiati. In tutte le stazioni saranno attivati i sistemi di snevamento e il riscaldamento degli scambi, per sgombrare appunto la neve dai binari. A fronte di eventuali fenomeni di particolare intensità, Trenitalia fa sapere che provvederà a una riorganizzazione delle corse con possibili riduzioni dei treni operativi.